Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruni, in questo momento mi trovo a Kuala Lumpur, come potete vedere sono le due del pomeriggio, come consuetudine qui vi è un caldo apposo, soffocante e vi faccio un po' vedere in che condizioni vengono tenuti gli animali in vetrina come potete vedere sono racchiusi in delle gabbie di plezigalas, completamente chiuse qui abbiamo, guardate questo bellissimo esemplare, sono lì che annaspa una bocca, non ce la fanno più questo lo vedi già è mezzo moribondo eccole qua un altro, sono chiusi in gabbie di vetro e plexiglass, quello lì è lo spiattatoio e quello lì, piccolissimo con dei piccoli buchi, questi qui sono qua mezzi impiastrati che sono più annaffora, non ce la fanno più, il caldo è veramente insopportabile, ci sentiamo alla prossima